Inzaghi furioso con Alvaro il braccio di Rabiot Milano Simone Inzaghi amareggiato dopo il KO con la Juventus e identifica la sconfitta nell'episodio del gol di Kostic, sono molto deluso. La partita è girata attorno a un episodio gravissimo, il gol era palesemente irregolare. L'ho visto io come i ragazzi. Inutile commentare un match che è girato attorno a un episodio.